Il Cremone ci ha permesso di costituire la Federazione di Crema. Allora abbiamo costituito la Federazione di Crema con il nostro apparato e con tutte le nostre cose. E il segretario era Bardelli. Giovani pionieri, noi costruivamo, perché eravamo giovani, costruivamo le feste dell'unità, e allora i vecchi dicevano, voi siete giovani, siete forti, fate quello. Quello me lo ricordo sempre, perché adesso sono vecchio e mi dico, no, tanto sei vecchio, tu sei pratico, lo fai ancora a te. Un punto di appoggio enorme alla costruzione del sindacato sono stati tutti quei ragazzi lì che erano al campeggio, li ho trovati nelle piccole fabbriche e sono diventati gli attivisti. La coerenza di rigore che faceva parte e fa parte della storia del Partito Comunista è dentro di me. Ci sono dentro dei valori, ecco, ci sono dentro dei personaggi che hanno interpretato al meglio questi valori, della passione nel dibattito che mi appartiene. Il mio caso è che il meglio possa proseguire. La notte lo guidano le stelle... Grazie. Grazie. Grazie.